Il sistema mi definito quando ancora non c'è la rivoluzione è la rivoluzione La rivoluzione è la rivoluzione questa rivoluzione è la rivoluzione c'è ragazzi ma alle superiori alle superiori non vi dicono come scrivere il rubio e tu questo lo sai quando mi fai un altro libro Sì, no, tante domande, c'era una domanda, sicuramente le ossa, c'era una domanda, se mai, non è complicata, ma non è complicata, ma non è complicata, ma non è complicata. Adesso, vedendo le domande così, di chi mi fa le so, perché quindi c'è fuori a un caldo, ci sono abbastanza, che siostruisce solo, che non ha un caldo, che non ha mai avuto un caldo di sole, ma non c'era un caldo di sole, ma non c'era un caldo di sole, ma non c'era l'acqua, e poi questo, mi passa alla tavola di one.